Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, buon martedì 21 gennaio 2020. Come ben sapete ieri è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Giovanna a mio parere è stata trattata un po' male da lui, tutti dicono che Giovanna sia pesante, però penso che un uomo debba essere sempre galante ed educato nei confronti di una donna. Secondo Giovanna Giulio avrebbe dovuto utilizzare un po' più di educazione e non scaricarla per correre dalla sua amata Giulia. Come ben sapete sin dalla loro prima esterna la coppia era sembrata agli occhi di tutti molto molto affiatata e nonostante il loro percorso non sia stato dei migliori per le varie segnalazioni che ci sono state su Giulia, alla fine Giulio dichiara davanti a tutti di essere innamorato di Giulia e che è lei la donna della sua vita. La scelta quindi è Giulia e scatta subito un sì e un bacio che concludono così il trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Giulio si dichiara alla sua amata confessandole che nelle ultime settimane arrivava a casa e non ce la faceva più a stare senza di lei. L'unica cosa che può dire e ti prego dimmi di sì perché ti amo. Questa la dichiarazione di amore di Giulio a Giulia. Secondo Tina Cipollari quella a cui abbiamo assistito ieri è stata una delle scelte più belle. Sinceramente a me non pare. Ma secondo voi davvero Giulio ama Giulia? Ho i miei dubbi. Un abbraccio, buona giornata e alla prossima. Ciao, kiss kiss!